Flazza è carina ma non sa di niente. È trasparente e quando uno sale sul palco deve impressionare, cosa che con lei non succede. Sembra Alice nel paese delle meraviglie. È spesata e se non trova il suo posto in un luogo protetto come amici, in una classe di 20 persone, come pensa di trovarlo nel mondo della musica. Flazza è liscia e a me piace l'acqua gassata. Non riesce mai a catturare la mia attenzione. Durante i provini ho trovato una ragazza che si chiama Gea, una musicista che ha studiato jazz e che ha personalità e che a prima vista dimostra di non aver paura di niente. Di certo non passa inosservata come ai miei occhi passa Flazza. È per questo motivo che mando in sfida Flazza contro Gea.